Allora Minister, squadra rivoluzionata però un risultato meritatissimo, un pari addirittura avete rischiato di vincere sul finale? Sì, sono d'accordo, un pari meritatissimo, squadra che ha lottato contro una squadra fortissima, quindi l'atteggiamento, quello che abbiamo chiesto ai ragazzi di essere presenti, di crescere, sotto queste partite si cresce, credo che abbiano risposto bene i ragazzi sotto tutti i punti di vista, in fondo forse era anche l'esagerazione, voglio mettere quella palla lì anche se era una ripartenza, se soffriva, però credo che il pari sia meritato sotto tutti i punti di vista, contento della prestazione, contento che siamo partiti un mese fa e quindi i progressi che abbiamo già fatto. Una piazza importante come la tua, i tifosi hanno risposto, abbiamo visto anche, hanno acclamato i giocatori riconoscendogli l'impegno messo oggi in campo, l'obiettivo vostro a livello societario credo sia quello di uscire quanto prima dalla zona pericolosa, la zona calda dei play-out. L'obiettivo nostro che ci hanno chiesto in questa avventura in cui all'inizio eravamo proprio veramente contati, anche a fare allenamenti, è di ottenere la salvezza. Per noi la salvezza è l'unico obiettivo che abbiamo, l'unica nostra fonte di lavoro di tutta la settimana, di tutto quello che si parla. Noi dobbiamo riuscire a salvare questa squadra qui per i tifosi, per noi, per tutti questi ragazzi che mettono la maglia, la sentono e la portano anche con rispetto.